Buon pomeriggio Gobbi e buon pomeriggio Gobbe, un video brevissimo per dare le ultime già da ieri sera se poteva sapere qualcosa, l'ho aspettato fino alla fine e l'ho confermata di ufficiale ormai di poche ore fa di Federico Bernardeschi positivo assisteremo all'ennesima falsa del campionato italiano che però comunque sia resta il campionato più bello degli ultimi dieci anni, di bello non so chi ha perché comunque sia strutturalmente è andato come sono andati quelli dove la Juve stradominava e quello che sta facendo l'Inter che domani ha la possibilità addirittura di andare a più 11 sulla seconda quindi niente di più e niente di meno di quello che dicevano poco tempo fa che il campionato italiano non era allenante per la Juve perché non aveva concorrenti allo stesso modo non è allenante per l'Inter che non ha concorrenti che ha praticamente stracciato e a 10 giornate, 8 giornate dalla fine ha un vantaggio talmente ampio che può permettersi anche di rilassarsi anche se l'Inter domani non vincesse, comunque sia diventano 9 o rimangono 8 quindi sempre ampio margine di distacco però la stampa italiana e qualcuno, soprattutto i media anti-juventini continuano a dire che è il campionato più bello degli ultimi dieci anni invece per come la vedo io e per come si sta evolvendo questo campionato è il campionato più falsato della storia del calcio perché comunque sia un protocollo che viene fatto a inizio stagione viene subito alla terza giornata eluso da De Laurentiis e i Mozzarella Boys con l'aiuto dell'asle di competenza del buon De Luca che amministrano e amministrano in campagna praticamente come cavolo gli pare la vedo il calcio e il coni si mettono 4 zampe subiscono l'inculata e il ribaltamento della sentenza perché nessuno si costituisce gli avvocati del Napoli hanno gioco facile a ribaltare la sentenza che era stata data con un 3 a 0 a tavolino e un punto di penalizzazione motivandolo perché il Napoli aveva avuto l'interesse di non giocare la gara di sdire aereo e tamponi e quindi gli fu dato condotta antisportiva e slealtà sportiva di punto bianco questo cambia e il 3 a 0 a tavolino viene ribaltato la partita viene rigiocata anzi si dovrà rigiocare e adesso di punto in bianco ci sono 3 positivi per la Juve e 2 per il Napoli in questo caso le asle di competenza non vedono il focolaio quindi a quanto pare la partita domani si dovrà giocare ultimamente le asle l'hanno fatta da padrone hanno bloccato tantissime partite non vede il focolaio Demirat viene dalla Turchia in Turchia ci sono 13 positivi tra i nazionali sparsi per le varie squadre di livello in Italia ci sono 13 positivi 7 giocatori e 6 membri dello staff sparsi per le varie squadre e non c'è un focolaio ma il focolaio serve soltanto quando fa comodo alle asle di competenza bloccare la partita o è proprio che la Juve deve subire torti su questo covid a rotta di collo perché io ancora non l'ho capito come funziona io non l'ho capito come funziona perché a me se qualcuno mi riesce a spiegare come funziona sto protocollo e in quale caso le asle o le ats di competenza devono fermare il campionato e tutelare la salute dei cittadini e dei giocatori a me se qualcuno mi lo spiega perché io sono ignorante e non l'ho capito perché a me mi sembra una farsa e la cosa più imbarazzante in tutto ciò è che la nostra società oltre essere allo sbando a livello sportivo è allo sbando a livello dirigenziale perché una società con i coglioni sotto con gente competente che vuole farsi rispettare avrebbe alzato la voce e non da oggi ma da molto prima visto che i nostri dirigenti io credo che ormai si siano rotti le palle di lavorare e di fare il bene della nostra Juve io chiedo vivamente ad Andrea Agnelli Nedved e Paradici di levarsi dai coglioni perché io non ci sto che una squadra come la Juve venga preso in giro in questa maniera e messa la berlina dalle asle dalla federazione italiana gioco calcio e dal CONI perché questa è una vera e propria vergogna vergogna e tendo a essere educato perché questa è una vergogna se da qui a domani rimanendo con questi positivi nessuno fa nulla è una vergogna chi si aspetta? che esce un altro positivo per bloccare qualcosa? io non riesco a capire non riesco a capire come funziona non riesco a capire e anche ieri la notizia della multa a Bernardischi per la simulazione col toro io sono d'accordissimo è la simulazione netta, giusto ma quanta gente ha simulato durante l'anno e io non ho visto nessuno prendere sanzioni gente ha preso i rigori addirittura ma stiamo scherzando stiamo scherzando qui ragazzi vi saluto guardate più tardi dovrei fare un altro video perché mi stanno dando delle conferme sulla situazione Pirlo Agnelli Aspetto delle notizie un po' più certe e magari tarda serata dopo cena farò un altro video fino alla fine forza Juventus e seguite sempre il campionato più bello degli ultimi dieci anni